Nuovo appuntamento nel Sagno con gli Open Day promossi da Ance Benevento e Ance Giovani Campania presso gli istituti tecnici a Indrizzo Costruzione, Ambiente e Territorio. Dopo Sant'Agata di Goti l'iniziativa ha fatto tappa a Cerreto Sannita presso il Carafa Giustiniani, un confronto con associazioni ed esperti con attenzione ad un settore come l'edilizia che si conferma in crescita ma che necessita di nuove figure specializzate. La richiesta è forte, ci sono molte aziende che richiedono professionalità, operai specializzati che purtroppo non riusciamo ad avere sul mercato e quindi stiamo cercando di fare rete. Ecco perché il percorso con le scuole coinvolgendo anche le amministrazioni locali. Noi stiamo addirittura chiedendo anche agli amministratori di partecipare, che ci troviamo anche di fronte alla crisi delle amministrazioni nell'assumere professionalità e tecnici specifici del settore dell'edilizia. Professionalmente in questi anni abbiamo sempre assistito a un calo degli iscritti e qualche anno che stiamo assistendo come collegio a delle reiscrizioni in virtù proprio del fatto che questi incentivi statali sull'eco bonus hanno riaperto un attimo le possibilità di lavoro per i tecnici del settore. Un percorso formativo che coniuga tradizione, innovazione e cultura, ha spiegato infatti la dirigente illustrando i dati dell'istituto. Caraffa Giustiniani ha sempre perseguito l'innovazione e i dati ci danno ragione. In realtà noi come istituto non abbiamo mai avvertito una flessione nelle iscrizioni. Tutt'altro, anzi negli ultimi due anni abbiamo avuto addirittura un lieve incremento.